Ciao, sono Carlo Mastadini e voglio ricordarvi che il 5 aprile al Teatro Mercadante di Altamura si apre il tour 2024 della Magical Mystery Story, la storia dei Beatles suonata da una tribute band straordinaria che sono i beatbox raccontata da me e quindi ripercorreremo le fasi della loro carriera, le risuoneremo soprattutto, tutti i dettagli, tutti i retroscena, la storia di questa band che è stata sicuramente la più importante della storia della musica rock, quindi ci sarà da cantare, ci sarà da ballare, ci sarà soprattutto da divertirsi veramente molto, quindi non perdete l'occasione, 5 aprile venerdì sera ore 21, Teatro Mercadante di Altamura, noi vi aspettiamo.